A Berlino apre una mostra sui disegni e le stampe del Divin Maestro, programmata per il 500esimo anniversario della morte di Raffaello, il 6 aprile di 5 secoli fa. Al Cooper Stick Cabinet appare il meraviglioso tratto dell'artista che accende il suo lirico teatro di figure umane celesti. Sono lavori raramente esposti questi che consentono di esplorare l'eccezionale portata creativa del manierista. I disegni sono affiancati da alcune opere del Perugino, dei più importanti allievi di Raffaello, come Gianfrancesco Penni, Giulio Romano, Perin del Vaga, nonché dall'incisore Marcantonio Raimondi. Queste immagini mostrano lo scambio diretto tra Raffaello e i tipografi del suo tempo. Lavorarono insieme per portare i suoi disegni davanti al grande pubblico, dilatandone la fruizione. Si tratta di artisti che usarono tecniche diverse. Qui abbiamo principalmente calcografia e incisioni sul legno. La mostra berlinese chiude a giugno di quest'anno. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti.